Ciao a tutti da Christian DJ, inseguratore del blogger, eccomi insieme a Re Borcino, il grande Massimo Marino E' una fratecola di nuovo dal film Sperm, dal fiere Sperm, che nei momenti topici è sempre onnipresente E non dimentichiamo che stai con esce, mille partite E salutiamo tutti gli amici di Youtube Youtube, MySpace, Facebook e soprattutto gli antichi come noi, gli amanti degli anni 70-80 Bella, fratella, roba d'occhio, ciao Dal premio 2, di eri situati, di eri situati